E' stato arrestato per detenzione ai fini di spaccio di metadone, l'uomo un palermitano fermato durante un controllo nella stazione di Xirbi. E' stato trovato con all'interno del suo zainetto 25 facconi di plastica da 125 ml per un totale di 3,125 litri di sostanza liquida che successivamente, secondo l'analisi del gabinetto della polizia scientifica con il NARCHI, ovvero il test di metadone reagente, risultava essere metadone. Inoltre sono stati trovati e sequestrati due biglietti ferroviari della tratta Palermo-Caltanissetta e viceversa che appunto hanno dimostrato che la temporanea presenza a Caltanissetta è comunque limitatamente alla consegna del metadone.